L'857 tessere di partite e associazioni in due album. Ci sono anche tessere a forma di biglietto, questa è una tessera di qualche campo di concentramento. Questa è una tessera di riconoscimento degli arditi. Anche dei partiti monarchici, il fronte dell'uomo qualunque. Sindacati. Partiti repubblicani nel periodo della Repubblica. Questa è un video per se. La Repubblica è stata maglia di un altro cibo. Cibo e sali. Questa è una tessera di lavorare alla battuta. La cibo e la bella. Questa è un aiuto. Questa è una tessera di surgeons. Questa è un disinteressante. Passobor, Purghladin, Pashavassara, e qua riprendiamo con altre tessere Touring Club Associazione Nazionale Caduti Carabinieri Club Alpino Motorizzazione Se volete altre notizie, video, informazioni iscrivete al negozio